La mia esterazione non vuole aumentare ancora di più la polemica verso l'associazione diversamente per il tema biodigestore. Non è altro che era da puntualizzare il fatto su una conferenza, un video che abbiamo fatto insieme all'associazione in merito proprio per il discorso del biodigestore se troviamo dei punti in comune con loro. Noi abbiamo evidenziato alcuni punti nei loro confronti che non ci piaceva il modo di come si sono improntati nell'affrontare questo tema. Infatti in questo video viene descritto questo atteggiamento nei loro confronti. Quindi noi volevamo solo che questo video diventasse pubblico. La nostra consigliera Marzia Cartocetti ha cercato più volte di reperire questo video con addirittura tre pecche. Quindi ci sembrava opportuno visto che la risposta da parte del Presidente Torcoletti era sempre sul vago. E allora era opportuno uscire con un articolo per denunciare questo. Dopo di questo, alla fine, il video ci è stato consegnato attraverso una chiavetta. Quindi la nostra uscita ha funzionato in questo. Per quanto riguarda la replica del Presidente Torcoletti, non era nostra intenzione mancare di rispetto ai cittadini che hanno firmato quella petizione. Assolutamente. Anzi, il nostro scopo era quello proprio di avere una maggiore informazione. Visto che a me è capitato per lavoro andare a interloquire con diversi clienti, io ho chiesto qual era il metodo per come mi hanno informato di questo business store. E molti mi hanno esternato il fatto che comunque sia dicevano che era una discarica, che era addirittura un inceneritore. Quindi è questo il nostro messaggio che non deve arrivare in questo senso. E quindi noi ci siamo attaccati verso questa associazione proprio per questo motivo. L'altro punto che ha replicato il Presidente Torcoletti era sul fatto che noi nel video dicevamo che l'associazione non è ambientalista ma è un'associazione culturale e quindi nel video si evince questo. E quindi era più che altro per dare trasparenza verso i cittadini. Quindi è un'associazione culturale, non ambientalista, che dopo deve valorizzare alcuni punti che sono sia l'ambiente, che la cultura, che il turismo. Quindi è un po' una sorta come una proloquo in questo senso. L'altra cosa era sul fatto che i manifesti che loro hanno esternato per dimostrare la discarica e la qualità di vita che c'è dopo questo biodigestore, per noi era scandaloso questo fatto che c'era un manifesto dove c'era una gru con tanti rifiuti e dove venivano smistati. Questo non è un messaggio diciamo trasparente, quindi è un messaggio negativo. Quindi bisogna dire sia i lati positivi e i lati negativi del biodigestore, tutto qua. Alla fine questo video ci è stato consegnato, però ci rammarichiamo perché ancora ci devono dare una liberatoria su questo e quindi aspettiamo la liberatoria da parte dell'associazione per poterlo pubblicare.